Trasferito al sud, tipo Bologna, sei stato trasferito vicino a Napoli. A Napoli? Quali sono le province italiane in cui si vive meglio? Per il 2022 è prevedibile il ritorno di qualche luogo comune, ma con qualche variabile che si inserisce a gamba tesa come la guerra in Ucraina, il caro bolletto e la pandemia, con le attività commerciali costrette allo stop and go. L'inflazione che pare aver toccato i numeri dalla fine degli anni 80, come riporta il Sole 24 ore nella 33esima edizione dell'indagine sulla qualità della vita. Benvenuti al nord con le tre città sul podio con Bologna, Bolzano e Firenze. Benvenuti pure al sud con le province calabresi che conquistano posti in classifica dalla 95esima posizione fino alla 107esima, l'ultima. Come si colloca l'Abruzzo in fatto di consumi, lavoro, servizi, salute, cultura e tempo libero. La classifica generale, che comprende 90 indicatori, vede Pescara a 44esima con 523 punti. Rispetto allo scorso anno migliora di 5 posizioni. Segue l'Aquila al 63esimo posto, che perde un punto nella classifica, Teramo stabile al 68esimo posto ed infine Chieti, che perde ben 12 posizioni rispetto al 2021 e si attesta al 75esimo posto. Vale la pena evidenziare qualche curiosità. Pescara conquista con il sole e con il mare, si attesta al terzo posto per il clima, ma diventa 98esima in fatto di sicurezza se consideriamo le denunce per i reati legati agli stupefacenti. In compenso, le case costano poco, 1800 euro al metro quadrato contro i 5.000 di Milano. Inevitabile pensare anche ai ragazzi al futuro degli studenti. Gli anni dedicati allo studio, considerato il range della popolazione over 25, sono 11.37, media vicina a quella di una città universitaria come Bologna con 11.32. Pescara al sesto posto, seguire l'Aquila al 14esimo, Chieti al 43esimo e Teramo al 67esimo. Dallo studio all'impresa, come si colloca l'Abruzzo nell'imprenditorialità giovanile, l'Aquila in termini percentuali si attesta all'8.45, vicino alla media nazionale all'8.41%. A seguire Pescara con l'8.30, poi Teramo con il 7.41 e Chieti con il 6.98%. Quanti sono i giovani che non lavorano e non studiano? Secondo la tabella del Sole 24 ore, il dato del capoluogo, l'Aquila, si attesta al 19.90%, dato non paragonabile alla prima città dell'anno, Bologna, con il 10.9%. E non può mancare un'altra curiosità, come si spende il tempo libero in Abruzzo, Pescara in ventesima posizione, alta dunque del resto. Con un clima gradevole e paesaggio in mozzafiato, è facile dare il benvenuto a chiunque passi tra il centro e il sud.